Sarà chiusa ancora fino al 2 maggio l'Istituto Gatta di Sala Consilina per consentire alla provincia di Salerno l'ultima azione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio iniziati venerdì 19 aprile scorso. Il sindaco infatti con una ordinanza ha disposto un'ulteriore chiusura della scuola dal 28 aprile al 2 maggio allungando così le vacanze per gli studenti del Gatta e questo a seguito di una serie di rilievi operate sulla struttura da diversi enti come si vince dalla lettura del provvedimento. Il primo sopralluogo infatti è stato quello eseguito dai vigili del fuoco di Sala Consilina che lo scorso 16 aprile hanno rilevato fenomeni di dissesto statico nella struttura scolastica da rendere improcrastinabili interventi di risanamento. Poi l'unità operativa di prevenzione del locale distretto sanitario ha rilevato insalubrità in svariati ambienti tanto da richiedere immediati interventi per la messa in sicurezza sotto il profilo igienico sanitario. Infine l'ufficio tecnico del comune nella sua verifica ha fatto emergere numerose criticità strutturali con distacchi di intonaco sia nelle parti esterne delle strutture spezionate che in quelle interne. Non vi erano dunque i livelli minimi di sicurezza per l'utenza scolastica. Pertanto il sindaco ha emanato un'ordinanza per prolungare la chiusura dell'istituto e garantire così l'esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento miglioramento strutturale e il ripristino delle adeguate condizioni igienico sanitarie della struttura scolastica in modo da garantire la sicurezza agli utenti interventi che saranno tutti a carico dell'ente proprietario dell'istituto ossia la provincia di Salerno. Le condizioni dell'itis gatta erano del resto note al centro dell'attenzione da tempo tanto che l'istituto era entrato nell'ambito del maxiprogetto del campus scolastico finanziato dal ministero al comune di sala consiglina e nel quale era prevista proprio la sua ricostruzione ex novo.